Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo insieme, adesso facciamo un riepilogo di tutti i pagamenti che sono attualmente in corso oggi 26 marzo e che vanno avanti fino al 2 di aprile. Vi invito ad ascoltare con molta attenzione. In questo video parleremo della Naspi, della disoccupazione della Naspi, parleremo dell'assegno unico universale, parleremo della carta acquisti da 80 euro bimestrali, parleremo del bonus SFL da 350 euro, parleremo della carta dedicata a te, parleremo dei carichi di cura, parleremo del bonus asilo nido e partiamo subito con la prima notizia e con i primi pagamenti che sono attualmente in corso. Allora, come pagamento in corso attualmente teniamo i pagamenti per la disoccupazione della Naspi, ma nonostante questo ci sono nuove date sul fascicolo previdenziale del cittadino per i pagamenti che vanno da domani 27 marzo fino al 30 aprile. Ci spostiamo ancora i pagamenti in corso perché sono in corso ancora i pagamenti per il bonus IRPEF, ex bonus Renzi da 100 euro o meglio riconosciuto come trattamento integrativo e ricordiamo a tutte le persone che questo trattamento integrativo sulla Naspi o in busta paga è destinato alle persone che nell'anno precedente hanno avuto un reddito da lavoro pari o superiore a 8.174 euro fino a 15.000 euro. Assegno unico universale, pagamenti attualmente in corso ma nuove date sul fascicolo previdenziale del cittadino che vanno dal 27 di marzo fino al 2 di aprile. Ci spostiamo ancora per i pagamenti in corso, parliamo della carta acquisti o social card da 80 euro, ricordandovi che i pagamenti sono attualmente in corso, le ricariche sono in corso e sono andate proprio in modo lentissimo. Parliamo adesso della ADI a segno di inclusione, nel primo pomeriggio sono attese le prime ricariche e ricordiamo a tutte le persone che molte domande che erano in evidenza alla sede, che erano sospese o che erano ancora acquisite sono state sbloccate e INBS sta comunque continuando a lavorare per sbloccare altre pratiche. E mi rivolgo a tutte le persone che hanno presentato il modello ADI come esteso per i carichi di cura, che dalle ultime notizie sembra che INBS ancora debba agganciare questa modifica e pertanto il pagamento potrebbe slittare per il 15 di aprile. Ci spostiamo adesso al bonus SFL da 350 euro, ci sono date a partire da domani 27 marzo, ma ci sono anche persone che hanno avuto data 21 e 22 marzo, ma ancora oggi non hanno il pagamento. INBS dice che la colpa è delle poste e viceversa, alla fine chi ci rimette come dico sempre, è sempre le persone che sono in attesa ed è sempre la categoria più fragile. Arriviamo adesso a parlare delle pensioni, ci sono tantissimi messaggi dove dicono ma è vero che saranno pagate a partire da oggi 26, nel modo più assoluto no, si attende da parte di poste che potrebbe arrivare qualche anticipo, ma se ciò dovesse succedere comunque sia sarebbero a partire dal giorno primo di aprile e non dal 26. È già successo per le altre festività, ma comunque sì al momento la data che resta, senza alcuna comunicazione da parte di posti italiani, è quella del 2 aprile, primo giorno utile, bancabile. Ci spostiamo infine a parlare della carta dedicata a te, perché il caro ministro Lollo Brigida ancora oggi siamo al 26 marzo e tutto tace. Dimenticavo l'ultima notizia, ma non per importanza, che oggi 26 marzo sono iniziate a sorpresa anche le prime lavorazioni per il bonus asilo nido.